Ciao gamer, oggi ragazzi siamo tornati in un nuovo video di MasterCraft C'è già un po' di cose regalate gentilmente dalla mia sorella Non è vero, mi sono presa da sola Ciao, ecco la mia schimbellina L'alba 037, intanto vi invito ufficialmente a me Lasciate un bel mi piace, commentate il video Commentate, commentate, dite come migliorare il video Dite come migliorare il canale Mettete like, iscrivetevi al canale, abbiate il canale, abbiate il canale, abbiate il video e condividete il video E al video Ok Ok Dove sei, oh, dove sei Ok 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 Ok. Quanto sabbia hai di me? Scegli ho... aspetta, cosa farò con l'interno? 22 Ok, io 23 22 22 22 23 23 23 24 24 25 25 25 25 25 26 26 26 27 28 29 30 30 32 33 33 33 32 33 34 34 35 36 37 37 38 38 38 39 Questa è la mia sorella, ciao Vicky Choco Allora ne vedo io per questo, mi chiamo l'abbo E questa è la mia sorella, Mimì Ciao Ok Ok Allora Siamo spostati tutti Veloce Io sto già dormendo, veloce Non mi prendi il letto Ok Vabbè Ok Sto già dormendo, sta piovendo, dobbiamo ripararci, almeno sotto un albero Sì Sono un po' scagliono Mettiamo il letto perché non so se è già notte Sì è già notte Io adesso soffoccherò probabilmente Non mi prendi il letto Ma 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 Grazie a tutti.